Per un momento di stress test del carattere perché sono arrivato al punto più basso, più basso, più basso, più basso. Io sto vedendo i segnali di una ripresa, non su di me, ma c'è il tempo che trovano. Io credo che nei cicli della politica, purtroppo i cicli è anche un po' superficiale. Parti tutti, oh è vero, è due a trent'anni, io stipano dieci persone due a trent'anni. Prenzi dovrà durare trent'anni, Monti dovrà durare trent'anni, Di Maio dovrà durare trent'anni, Salvini dovrà durare trent'anni, Conto dovrà durare trent'anni. Le, no, le non hanno mai detto. Però tutti dovranno durare trent'anni, alla fine durano trent'anni se va bene, ma questa è un'altra storia. Nei cicli della politica prima o poi, credo presto, toccherà di nuovo a noi.